Il nostro obiettivo è quello che abbiamo fatto fino ad oggi, provando a continuare a alimentare quelli che erano i nostri obiettivi iniziali e quindi alimentare questo entusiasmo che si sta creando e per riuscire a farlo abbiamo un solo modo, quello di dare tutto quello che abbiamo per provare a fare delle grandi partite il fine settimana quando siamo chiamati in causa a doverle fare. Siamo stati fermi tanto, però ci siamo preparati e allenati bene per provare ad arrivare al meglio, poi ovviamente è sempre il campo quello che ci dà le risposte, noi pensiamo di aver lavorato come volevamo fare, abbiamo tutti quanti i ragazzi dentro al gruppo pronti per dare il loro contributo e per far sì che questa squadra possa continuare a fare quello che ha fatto fino ad oggi, provando a migliorare quello che di meno buono è riuscito a fare. Noi siamo concentratissimi nella partita che abbiamo domani, abbiamo lavorato bene per provare a prepararla al meglio, sapendo che affrontiamo un avversario complicatissimo che in casa ha dato filo da torcere a tutte le squadre, che non ha perso con le due capoliste del nostro campionato, che conosciamo bene quelle che sono le loro qualità e che quindi ci spetterà di fare una partita tosta, vera, in cui noi vogliamo ben figurare perché pensiamo di avere le qualità per poterlo fare, indipendentemente da quelli che saranno gli interpreti che scenderanno in campo. Andremo ad affrontare un avversario difficile, forte, ma credo che lo saranno tutti da qui alla fine perché li abbiamo incontrati, perché li conosciamo e perché ovviamente sappiamo che questo campionato è un campionato che ogni domenica nasconde tantissime insidie. Il bilancio mi piace farli alla fine, non a metà. Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, ma non ci accontentiamo, non vogliamo accontentarci. Questo non significa che dobbiamo per forza cambiare le nostre strategie o dichiarare cose che non abbiamo mai dichiarato. Significa che abbiamo tanta voglia di lavorare per provare a continuare questo cammino che abbiamo intrapreso tra mille difficoltà, sapendo quanto è difficile questo campionato, ma sapendo anche che abbiamo dimostrato di avere le qualità per poter fare bene in questo campionato difficilissimo. Gli obiettivi non vanno mai dichiarati, ma vanno provati a essere perseguiti, quindi per noi c'è solo un modo per provare a raggiungere quello che vogliamo raggiungere, quello di lavorare quotidianamente e farlo con la massima applicazione senza poi avere nessun tipo di rimpianto. Mi occupo poco del mercato, sono contentissimo dei ragazzi che arrivano, che sono arrivati e di quelli che arriveranno. Faccio un in bocca al lupo ai ragazzi che sono andati via. A fine mercato tireremo le somme, vedremo chi ci sarà e chi non ci sarà. Abbiamo tanti ragazzi a disposizione e io provo a poter utilizzare le loro qualità anche in postazioni diverse, come ho sempre fatto all'inizio del campionato. C'è competizione interna ed è importante, mi auguro che continui ad essere sana come c'è stata fino ad oggi e questo per noi è importante per poter alzare il livello e far sì che chi viene chiamato in causa di domenica in domenica deve sentire la responsabilità di essere protagonista in una squadra in cui ci sono tanti giocatori bravi e quindi fare il massimo per provare ad ottenere il massimo. Forse domani continueremo su quello che abbiamo fatto, ma nel mio modo di pensare calcio non c'è uno schema fisso e predefinito, nel giorno dell'andata ne abbiamo cambiati tanti, ovviamente a volte poi quando si riesce ad ottenere risultati si pensa che sia la cosa migliore, quando non ci si riesce si pensa che ci sia confusione, invece non c'è confusione, è un modo di pensare che prescinde dai numeri di quanti difensori ci sono in campo o quanti centrocampisti ci sono in campo. Vogliamo provare ad essere propositivi, a volte ci siamo riusciti, altre no. Sappiamo, ripeto, che il campionato sarà difficilissimo, però al di là dei moduli sarà il modo importante con cui affronteremo le partite per cercare di fare benissimo a partire dalla gara di domani.